Sì, il trenino della notte è sempre con noi, Rebecca Staffelli e Alessandro Sansone, ciao Ale! Ciao Rebecca, buonasera a tutti amici, buon inizio settimana, buon lunedì 4 di dicembre, inizia una nuova settimana di Night Express, noi chiudiamo il palinsesto della radio, quindi siamo gli ultimi ad arrivare, ma anche i primi ad andare via, se iniziamo a vedere la giornata a partire da adesso, no? Bravo, esatto, noi dobbiamo cercare di vederla in questo modo, ma soprattutto concludiamo quella che è una giornata come il lunedì, che non è per niente.